La pubblicazione della lettera inviata dal presidente della Lega Pro Ghirelli e i presidenti dei club di Serie C ha fatto divampare la polemica intestina tra le leghe del calcio professionistico. La ripresa dei campionati continua a far discutere. Nella lettera, che era preparatoria all'assemblea della Lega Pro del 4 maggio, sono contenute le proposte deliberate dal consiglio direttivo tenutosi sabato, tra cui la sospensione definitiva del campionato di Serie C, il blocco delle retrocessioni e la promozione in B delle attuali prime nei tre gironi più una quarta tramite sorteggio tra coloro che occupano posizione play-off. Proposte che hanno suscitato la stizza e la pronta risposta del presidente della Lega B, Balata, il quale in un comunicato ha bollato le proposte del direttivo della Lega Pro come totalmente non condivisibili e irricevibili, ha definito fantasiosa l'ipotesi di una promozione per sorteggio e più in generale ha lamentato la mancanza dello spirito di squadra e quindi del fatto che queste eventuali decisioni non sono passate attraverso un confronto, un dialogo con le altre leghe, in particolare Lega B ed LND, i cui campionati subiscono delle conseguenze a seguito delle scelte che potrebbe prendere la Lega Pro. Sono arrabbiatissimo con chi ha fatto circolare pubblicamente la lettera, ha ribattuto il presidente della terza serie nazionale Ghirelli. I presidenti l'avevano per preparare l'assemblea ed è diventata oggetto di dibattito esterno e di pressione su di loro. Stiamo tutti tranquilli, la proposta sarà sottoposta al Consiglio federale che è il dominus, prosegue Ghirelli. La chiusura la deve deliberare il Consiglio federale, certamente tenendo in grande considerazione la delibera, ove ci fosse, dell'assemblea di Lega Pro. La convulsa giornata di ieri è stata chiusa dalla ferma presa di posizione ribadita dal presidente federale Gabriele Gravina. Nel corso della trasmissione, che tempo che fa su Rai 2, fermarsi oggi sarebbe un disastro. Se il calcio non riparte ci sarebbe un pesante impatto negativo sul settore ma anche sul paese, visto che movimentiamo circa 5 miliardi di euro. Io non ho mai preso in considerazione l'idea di fermarci, non posso prendermi questa responsabilità che lascio al governo. Non posso essere il becchino del calcio italiano.